Cos'è Forza Italia ciberspazio? Forza Italia ciberspazio è la Forza Italia che si trova nella giurisprudenza che si chiama ciberspazio e quello non è un termine che l'ho creato io, quello è un termine che mi è stato scritto ufficialmente in un rapporto poliziale che ho ricevuto negli Stati Uniti due anni fa. Io ho avuto dei problemi legali nei miei affari e cosa è successo? Una volta che voglio sistemare il mio problema legale è venuto a me che il mio problema è successo nel ciberspazio e di là viene tutto questo mio movimento del Bring Civilization Back del Forza Italia ciberspazio perché come mai possiamo esistere in questo mondo digitale, online, che esiste nel ciberspazio perché tutti noi oggi spendiamo tantissime ore al giorno in questa giurisprudenza chiamata ciberspazio. Ma cos'è il ciberspazio? Il ciberspazio ancora non esiste, la giurisprudenza nella Costituzione, nelle leggi, ogni volta che tu hai un problema guarda questa persona mi ha rubato, guarda questa persona mi ha scritto e ora guidare e una persona mi ha chiamato e quello è successo e ho bloccato la macchina. Quello è successo nel ciberspazio e il ciberspazio è una giurisprudenza che già si scrive ma non c'è struttura e di là avviene la mia parte politica. Ci sono tanti altri aspetti che sono d'accordo con Forza Italia che è il mio partito ma c'è uno in particolare che è quello dove sono più specialista perché lavoro con l'export, con le vendite all'estero per più da vent'anni, per quello ho lavorato sempre in quello che si chiama ciberspazio e oggi una volta che tu hai problemi nel ciberspazio ti devi riportare a un sistema giudiziale, un sistema penale, al sistema di sicurezza che siamo ancora nel medioevo. Ci sono le leggi che sono del 1500, del 1800 e ci sono tante aziende cibernetiche che sono a lavorare senza legge e quella è la realtà perché non riesci a esecutare le azioni che hai bisogno perché sono nel ciberspazio. Il ciberspazio cosa succede fisicamente e dappertutto e quella è la parte più difficile di regolamentare il ciberspazio perché i partecipanti della situazione sono normalmente sprecati da tutto il mondo e in situazioni diverse e quella è la difficoltà di esecutare la legge e anche la sicurezza. Si capisce bene ma dopo facciamo più video su Forza Italia e ciberspazio spiegato qua rapidamente per quelli che mi sono a vedere per la prima volta ma ci sono nel mio canale tanti video per quanto riguarda ciberspazio, cybercrime e crimini sull'internet e Forza Italia e ciberspazio e bring civilization back trust e riportare la civiltà perché oggi c'è una salvageria, una mancanza di regola totale in quello che significa ciberspazio. Bene, questo capitolo di oggi io voglio rispondere a alcune delle domande perché l'ultimo video che ho fatto per quanto riguarda la politica è stato per conto del principe Emanuele Filiberto di Savoia che ha fatto questo webinar la settimana scorsa, è quello che è l'ultimo lì, ho ricevuto alcune domande. Grazie, la repercussione è abbastanza grande, più di 400 persone hanno già visto quei video, sono contento. Bene, andiamo qua. Paolo Barcella mi ha spedito alcune domande e io vado a farle dal vivo così non l'ho sentito ancora, lui me l'ha spedito per qua, vediamo la prima domanda. L'apparizione del principe ereditario di Savoia è un'iniziativa del tutto personale che può essere attribuita a lui stesso o dietro di lui c'è uno scheming, c'è un'organizzazione o comunque dei poteri che vedrebbero volentieri di nuovo un intervento attivo nella politica italiana. Bene, prima domanda, se lui parla per sé, io non sono il principe per saperlo esattamente, quella è una domanda un po' personale per sapere se lui lo vuole fare personalmente. La mia risposta è, io parlo come marketing, una persona che capisce del marketing, il principe di Savoia non è un nome o un marchio facile da lavorare, io che lavoro con le vendite, ci sono alcune cose che sono molto facili di capire, per esempio se io voglio vendere palle di calcio, io contratto Messi, che è nato qua a Rosario in Argentina e anche italiano in Argentina, ha contratto Messi, gli do un milione di euro e so che venderò 10 milioni di palle di calcio, è una cosa molto facile, fa molto senso. Altre cose, non so, volevo vendere palle di calcio e Maradona, Maradona già non è così ovvio perché Maradona ha avuto problemi personali, ma sì, per calcio va, ma così, ok, queste sono le questioni di questa attrezzatura di mettere una persona famosa per vendere qualcosa, così la sua domanda lo capisco comunque quello, lui pensa che lui sta contrattato da una persona per vendere qualcosa o da loro, lui stesso la sua, da sé, questo desiderio di entrare in politica, io direi che da sé, se io posso scegliere da sé è giustifico con la questione che il principe non è facile da lavorare nel marketing come prodotto, se io voglio vendere che sia un'ideologia, un'idea, un prodotto, camicie, vestiti con un principe, c'è il primo caso che Prince Harris e la sua ragazza che è canadiense che loro hanno voluto creare un marchio di vestiti, non è così semplice, se qualche persona che vuole fare prodotti reali, codico prodotti, servizi, idea, politica, quello che sia, non solo oggetti, ok, è meglio creare da solo, come fa Disney, Disney vende miliardi di euro tutti i giorni con tutti i programmi di tv da Disney, ma loro non fanno riferimento a nessuna realtà, e tu sono principesse, castelli, ma chi castelli non si sa chi sono, una volta che c'è una questione reale, specifica e più difficile, io direi di no, io direi di no che lui quello che vuole fare è questo, io penso che lui è arrivato a un'età, che penso che lei ha 50 anni, che è un'età che non diventa un po' più vecchio, ha delle figlie e vuole fare un lavoro che a me mi sembra filantropico, io direi che è di lui, io, se io posso indovinare, io direi che lui lo vuole fare da solo, che non c'è nessun interesse grande, anche perché è una persona, una personalità difficile da lavorare, perché è difficile, sono oggetti complessi, non si può prendere solo un pezzo dalla sua storia, è difficile di lavorarlo per avere un messaggio chiaro a quelli che è probabile che ci sono più elementi negativi che positivi, per esempio, nel marketing, così il rischio è un po' difficile di lavorare e con quella della britannica, per esempio, che sarebbe la famiglia reale più famosa del mondo, si vede chiaramente che non è così semplice, ok? Bene, andiamo alla domanda numero due. Augustin, buongiorno, volevo chiederti quali sono stati i motivi che ti hanno spinto a visitare il monastero cistercense di Altacomba, nella Nizza Savoia in Francia e qual è stata diciamo la tua impressione dopo che hai fatto visita alla tomba ufficiale dei membri della casa Savoia? Ok, va bene, grazie, questa domanda personale è mia. Cosa è successo? Io nell'anno scorso ho avuto anni, nei due ultimi anni della mia vita sono stato molto enigmatici, sono stato attaccato nella mia azienda, sono da due anni carabinieri, poliziotti, avvocati, provando di risolvere i miei problemi, io faccio le vendite all'estero, sono una persona popolare, ho una domanda molto grande dei miei prodotti, non solo come persone, ma anche dei miei prodotti, o i miei propri marchi, il mio proprio prodotto, ma mi sono, come si dice, imbattito con questa Unione Europea 2020, 2018, 2015 che è davvero pazzesca per quello sono in politica adesso perché guarda non posso lavorare se questo non è sistemato. In tutto questo io e anche io ho delle origini imperiali, monarchiche, non so perché ho un cognome importante europeo, o Brian, cacciere, sono del lato di mio padre, sono cognome importanti, la mia madre ronco, così non so. Alcune volte io penso che noi forse abbiamo, io credo nel sesto senso, intuizione, così io non lo so, ma tante volte nella mia vita le cose succedono per coincidenze, io vado a cercare una cosa, la cosa mi cerca, sai, e la trovo, tipo non c'è una cosa molto tangibile e tante volte la gente è un po' a sfiducia perché pensano che ho preparato qualcosa in dettaglio, no. Io l'anno scorso dentro dei miei viaggi che ho fatto sono andato a Chambéry, nella Francia, e lì c'è Otecombe, e Otecombe ho visitato l'Altacomba lì a Savoia, nella Francia, a Aix-le-Ban, che è questa provincia francese che era parte dell'Italia tempi fa. Io ho sempre una politica personale che a me non mi piace visitare i posti morti, cosa vuol dire? Io non vado a una chiesa con le visite guidate, per quello sono un po' contento io che con questa quarantena non c'è tanto turismo, perché io penso che non sono a favore del turismo commerciale in massa, non mi piace, ok? Non vuol dire quell'attività economica, è l'oggetto in sé. E cosa vuol dire? Quando vado lì a Chambéry, mi hanno detto delle Otecombe, io vado a visitare la messa che fanno loro alle sette pomeriggi, per me è quello importante da andare a conoscere. Sono andato conosciuto, sono andato, ho visto tutte le tombe di lui, della sua famiglia, che sono lì in Francia, è un bellissimo, è il posto da andare e io ero da solo, io ero da solo. La prima volta, dopo ho portato un'amica, sono andato due volte, tre volte sono andato, la prima volta per domandare com'era il sistema, la seconda volta per andare, sono andato a sciare in Francia, dopo di là sono andato e non c'era nessuno, io pensavo che c'era gente e per quel motivo di no, devo tornare qua con la mia amica, qua dalla Francia, e l'ho invitato, e lei è anche italiana, cittadina italiana, abita in Francia, siamo andati a vedere, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Così io sono andato perché normalmente io visito così i monumenti storici italiani e europei. Se il Colosseo funzionarebbe ancora, io sicuro avresti andato già, se sarebbe andato già, se c'era ancora qualche funzione lì, se c'è un evento che succede in quei posti, io vado, è di là il principio. Non sapevo che dopo sarebbe fare un video con il principe adesso, di metterlo su YouTube, quello, forse questa predestinazione, intuizione, non lo so, ma siamo in tante cose, abbiamo cose in comune, vediamo, forse si fa qualche lavoro insieme, non so, davvero, non so, non so, non ho andato diretto con il principe così, allora no, non so cosa dire per quanto riguarda io e lui fare, ho fatto quel video solamente dove io spiego cosa dice lui, ma io sono più con Forza Italia, Forza Italia sì, ho tanti progetti, voglio davvero iniziare lo più presto possibile a fare un lavoro più energico, non solo video così in YouTube. Bene, andiamo alla prossima domanda. Allora Agustin, Emanuele Filiberto di Savoia ritorna sulle pagine della cronaca perché afferma che in un momento di difficoltà come quello attuale la figura del re potrebbe essere in qualche modo confortante per l'animo degli italiani che in questo momento è stato messo a dura prova non solo dalla pandemia del coronavirus, ma da tutto quello che ne consegue e delle conseguenze che ne sono derivate dal punto di vista economico e sociale. Allora, questa apparizione sui giornali, sui media, secondo te Augustin è appropriata? È stata una mossa intelligente da parte del principe ereditario? È veramente in grado di fare quello che si è ripromesso di fare? E inoltre, secondo te è stata una sua iniziativa personale o c'è uno scheming dietro? Cioè, c'è qualcosa di sopra di lui? Bene, sì, è appropriato, oggi sì, è un momento che c'è tanta crisi, è buono, lui è come che deve dire qualcosa, l'ha detto. Due, lui non ha davvero fatto niente importante. Scusa se qualcuno che segue il principe lo dice, ma io spiego un po' anche per spiegarlo a lui. Alcune persone hanno scritto che il principe è quello, quello, quello. Io sono andato al webinar e ho sentito le sue proprie parole. Lui non ha detto, va, voglio risolvere l'Italia. Lui ha detto i suoi commenti che vuoi aiutare, ma al finale ha fatto solo un webinar. È un inizio, ha dei buoni contanti, ma non possiamo mettere una responsabilità che lui ha davvero detto, no, io voglio sistemare tutta l'Italia. Io, la mia opinione personale è che le monarchie hanno una funzione sociale interessante quando, come tutto nella vita, sono bene amministrate. Se c'è un'amministrazione bene, se stanno bene, come tutto, ok? Ci sono democrazie che sono rovinate con governi cattivi. Abbiamo la Venezuela, un esempio, quella era una democrazia, guarda cosa è oggi. Così le monarchie, è la stessa cosa. Ci sono casi disastrosi da tutti i sistemi, ok? E quello è un oggetto. L'altro oggetto è che io penso che la monarchia fa una visione di famiglia. È una cosa molto europea, ma gli altri popoli anche ce l'hanno. Così a me piace la monarchia rappresentativa, la monarchia simbolica, la monarchia che sta presente come per eventi sociali. Ci sono buoni esempi nel nord Europa, dove fanno le due cose, ma la repubblica è quella che domina, che comanda, perché la repubblica è repubblicana, mi piace la democrazia, mi piace forse anche di più il presidenziale che il Parlamento, mi sembra il presidenziale alcune volte un po' più trasparente, ma mi piace più quello come sistema amministrativo moderno per il sistema di oggi che abbiamo oggi nel mondo. E quello... mi è arrivato qualcosa qua... e quello è una questione... sono arrivati tutti i messaggi adesso nel cellulare, non so se il cellulare non lo chiama. Beh, così io penso che viene bene, ma spiego, lui non ha fatto tante cose, è solo un webinar, ancora sta lì, non c'è niente molto concreto e molto sostanziale come per dire, no, lui vuole quello, quello, quello. Io direi che lui inizia da basso, non è stato attivo nella politica tutta la sua vita, mi sembra, e adesso ha iniziato a dire, è come che lui ha salutato, ciao, tutto bene, sono qua, sono il principe, come stai? Sono qua, è quello che ha fatto così, da quello a davvero fare commenti più complessi mi sembra troppo questo momento, ok? Vediamo la prossima domanda. se tu potessi dare dei consigli a questo principe, visto che le sue apparizioni sono abbastanza come si potrebbero definire velleitarie, si mostra come fotomodello in California, fa delle promesse e delle osservazioni che sono alquanto discutibili, secondo te come dovrebbe veramente porsi agli occhi del grande pubblico un principe ereditario e quale potrebbero essere veramente delle considerazioni che potrebbero aiutare il popolo italiano in questo momento e quali le azioni conseguenti? bene, grazie, grazie per la domanda, domandarmi a me cosa posso dare dei consigli a questo principe di Savoia, signor principe di Savoia, il mio primo consiglio, devi sapere prima cosa volete, ok? Non ti puoi presentare, se tu già sai che è un nome importante e ti vuoi presentare, parlare una cosa che sembra politica con un logo più Italia, che sembra un partito politico, ci sono giornalisti e spiegare che tu vuoi entrare in politica, non puoi rispondere alle domande dicendo che non sai cosa vuoi, perché lì è un atti morto, ti inizi a dire no, questo non è movimento, non è politica, non voglio quello, non voglio quello, io per esempio sono a spiegare che ho capitato che è filantropia, ma tu dovrebbe dirlo dal principio, guarda, questo è un lavoro filantropico, qua 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 qua, perché non sembra molto chiaro cosa vuoi, ma io direi numero uno che dovrebbe cercare di separare, che è molto difficile oggi, questo è la mia personale, questo è il mio lavoro, e principe o non principe ci sono questi due elementi nella vita, personale, la mia famiglia, lavoro, un lavoro di famiglia reale, un lavoro che ha un rapporto con la vita personale, perché la vita familiare, ma si deve separare a un livello, e alcune volte ho visto che lui mischia un po' tutto ancora, e quelle questioni se ha fatto un modello o non ha fatto un modello, quella non c'è importanza, perché tutti lo possono fare, ma sì, quando si presenta come questo webinar è lavoro, deve essere chiaro che lui non è amico di nessuno, che lì è lavoro, siamo tutti insieme perché è lavoro, è una questione commerciale, vogliamo risultati, se uno diventa amico dopo, o diventa amico prima, o era amico prima, sì ci sta, ma il lavoro è una cosa, guarda, se io voglio aprire un ospedale, tu sei mio amico, ma tu sei meccanico, non lavorerai per me, perché il lavoro deve essere pragmatico, risultati, noi vogliamo un risultato, e quello ho visto che è un po' troppo grigio lì, perché lui parlava, sembra che erano tutti amici, a fare una chiacchierata, a spiegare come le cose stanno, così io direi essere un po' più professionale, ma avere prima il messaggio chiaro, io che lavoro con il marketing, tu hai prodotto, prezzo, piazza, promozione, questi quattro elementi devono fare senso, così non importa se tu vuoi vendere bevande, o vuoi vendere alimentari, tu devi avere una cosa che fa senso, così la gente capisce bene cosa vuoi, Berlusconi lo fa abbastanza bene, per esempio, il messaggio di Berlusconi è abbastanza chiaro, così devi avere quei quattro elementi, se no, stai perdendo tempo al finale, perché fai la promozione, forse lui è stato un po' vittima del clickbait, perché oggi il social media, il social ti fa sentire importante, ha questa fama ephemera, ma non è una fama sostenibile, non è una fama fondamentata, è una fama molti volte inutile, lo dico per me stesso, io per esempio ho venduto il mio riso su social, mi viene tutta quella fama, centomila persone ti guardano, ti mettono mi piace, commenti, ma quello passa e dopo viene un altro nuovo e passa tutto di nuovo, anche quello va con le cose del ciberspazio che parlo io, della regolarizzazione, perché è troppo pazzesco tutto così, c'è la promozione, c'è tutto, ma non abbiamo capitato bene cosa vuole, non importa, il webinar mi è piaciuto, gente importante ha parlato, ringrazio per essere andato, ma è il webinar, punto, lui come persona cosa vuole, cosa non vuole, non è stato chiaro, è quello che dico che sarebbe il mio consiglio, avere il messaggio chiaro, perché lui ha una potenzialità, è una persona importante, tipo lui, tutto quello che fa, lo fa di sopra, è già una persona conosciuta, è anche conosciuta per una questione di eredità, di famiglia, da quando è nato, così lui ha già tutto questo potere, così lui può, così io direi forse social, forse venire a parlare con Forza Italia, sarebbe un consiglio, guarda, i punti principali sono come lui ha opposizione, lui vuole ricostruire l'Italia, anche lui l'ha detto, quello sì l'ha detto, anche lui è 30 milioni di italiani, ma con gli stessi desideri, così forse fare un rapporto dove si può strumentalizzare questa voglia, si può arrivare a risultati, non solo spiegare un desiderio, quello è stato un po' nell'aria. Andiamo alla prossima domanda, che è la ultima, andiamo, per Paolo Marcella della Liguria. Agustin, come tu ben sai, le spoglie del penultimo re d'Italia, Vittorio Emanuele III, e della sua consorte Elena, sono state trasferite nel santuario di Viccoforte, in provincia di Cuneo, non molto lontano dalla casa di caccia di Vittorio Emanuele II, che si trova in Valcasotto. Secondo te, che significato ha riportare le spoglie del penultimo re d'Italia di nuovo in Italia e non più nella Savoia, dove sei stato tu a vedere il mausoleo della casa Savoia. C'è qualche legame con i fatti di politica attuali o non c'è significato qualcuno in questo trasferimento delle spoglie di Vittorio Emanuele III? Guarda, questa è una questione anche molto personale e non conosco la storia a fondo. Io direi di no. Io direi che le monarchie sono troppo antiche, troppo vecchie. Tante volte non si afferrano al territorio attuale della Repubblica, perché quella parte della Francia anche era una parte della Repubblica. Io direi che una buona parte di quello è personale. Non so davvero rispondere. Non penso che hanno usato quello per una questione di politica. Io non lo vedo così. Non penso che vogliono che sia dentro la Repubblica. Non penso che... perché c'è storia anche dall'altro lato della frontiera. Non è che questi corpi erano in Asia o in Africa. Erano alla Savoia francese, che anche era parte dall'Italia, dell'Impero. Così c'è storia di entrambi, così direi di no. Ma bene, guarda, è un piacere rispondere alle domande. Seguiamo avanti. C'è di più. Io sono provato a fare video più più corti, a cambiare un po' il sistema. Ma c'è tanto, tanto, tanto da parlare. Ci stiamo organizzando a vedere come seguiamo questo lavoro. Io seguo, io, Augusto in cacere. Abbiamo punti importanti. Io, numero uno, sono venditore, promotore. Io voglio promuovere il nome di Forza Italia, promuovere la rinascita, promuovere il lavoro. E quello che faccio io? Vendo idea, vendo prodotto, vendo quello che... ho fatto tutta la mia vita. Ho iniziato la mia vita vendendo enciclopedia. Il mio accento, perché parlo in lingue straniere. Io parlo troppo in inglese tutto il tempo. Io sono più all'estero. Io vendo Italia all'estero. E dopo c'è il lavoro di Made in Italy, che siamo lavorati per vendere prodotti italiani all'estero, fare l'export di prodotti italiani. Sono lavorati anche con questo del ciberspazio, questioni legali, giudizi. Io ho quattro giudizi molto importanti, che a livello internazionale, anche diplomatico. Un esempio è la Thailandia. Io sono da due anni già a litigare con la Thailandia. Per esempio, non fanno a noi europei tutta questa pubblicità che è Thailandia, che è bella la Thailandia, che la Thailandia è bellissima. Ci sono tantissimi italiani in Thailandia. Tu vai per lavoro, io per lavoro, turismo. Io sono stato per lavoro. E mi sono imbattuto con una Thailandia diversa di quella che ci vendono a noi. E l'ambasciata thailandese a Londra, che è quella che mi sono rapportato, ho avvocati a Bangkok. Davvero non è bello. Per quello voglio che tante volte si parla di Cina, Cina, che la Cina è quella, che la Cina è quella. Guarda, tutta l'Asia può essere un problema. E la Thailandia non è diversa. A Thailandia è una questione magica, turistica, molto bella. Io sono andato, è una monarchia, anche là, sono andato al funerale. Sono andato tre volte in Thailandia. È stato un mese completo ogni volta. Ma negli affari è un altro discorso. E no money not, come la Cina, come tanti altri popoli. Non pagano nulla, rubano senza vergogna. L'ambasciata thailandese a Londra non ti dà la risposta che hai bisogno. Io ancora non ho i miei problemi risolti. E a livelli anche aggressivi, violenti, Thailandia, Brasile è altro problema. Così è quello che è la rinascita anche della nostra civilizzazione, bring civilization back. Così c'è la giurisprudenza, c'è il ciberspazio, bring civilization back, made in Italy. E anche la questione dell'immigrazione, anche c'è tanta cosa da lavorare, c'è tanta cosa da parlare così. Seguiamo avanti. Nel mio canale c'è tanta cosa, quelli che hanno più tempo, seguiamo avanti. Questi ultimi due capitoli, la monarchia italiana, la famiglia Savoia. Cosa vogliono? Si è presentato. Aspettiamo, aspettiamo che vengono di più. Tutti quelli che vogliono collaborare, che vogliono aiutare alla crescita sono benvenuti. Un caso importante mio è che il bring civilization back trust è una cosa di alta gamma, tipo io non posso chiedere alla gente nelle favela del Brasile a darmi soldi. Davvero devo chiedere alla famiglia da portare il fondo, alla famiglia Berlusconi da portare il fondo, alla famiglia di Gates. Il bring civilization trust è un affare importante lì. Io lo parlo così così, ma è importante stiamo a parlare di cifre di milioni di dollari. Uno del problema che abbiamo è l'euro, per esempio. Come possiamo offrire l'alta qualità italiana col servizio di alta qualità a prezzi della Turchia, con un euro che ci rovina tutto, che al finale abbiamo un costo di 100, dobbiamo vendere 200, ma 100 euro è costo euro, è il costo dell'euro che costa troppo, non abbiamo la lira. Ma abbiamo tutta questa necessità mondiale del nostro servizio. La civiltà italiana non è morta da per nulla, noi siamo più popolare che nunca, siamo molto popolare. La questione sono i costi, che la globalizzazione fa questa pressione con costo, 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 e noi qua in Italia siamo da impazzire, perché tutti ci vogliono, tutti vogliono partecipare del sogno italiano, ma scusa, ma si deve pagare la cena. Tu non aspetti ad andare a cena con questa famiglia meravigliosa, che sono tutti ben vestiti, che sono tutti venuti in macchina, che stanno parlando bene l'italiano, l'inglese che sia, e non pagare nulla, e pagare meno che il McDonald's che mangia lì, sai, è quella la questione che davvero dobbiamo lavorare nel Bring Civilization Back Trust, che, tornando ai miei giudizi, gli affari internazionali oggi sono arrivati a un livello che non c'è regolarizzazione del ciberspazio, dobbiamo lavorare al ciberspazio, ma non ci sono regole, non c'è sicurezza, e allo stesso tempo c'è una pressione a livello prezzi nel mondo, che gli imprenditori, le fabbriche sono arrivati a livelli criminali. Non è più quello di, ah lo produciamo in Cina che costa di meno, quello era dieci anni fa, vent'anni fa, oggi lo produciamo in Cina, così possiamo rubare, e non dobbiamo pagare neanche le tasse in Italia, neanche il ragazzo che gli fa le vendite, neanche Irlanda, è un caso specifico, io sono da due anni chiedendo un rapporto poliziale dall'Irlanda, perché ci sono tante aziende in Irlanda a fare delle cose sospette, che non sono fidabili, perché? Perché la polizia irlandese non aiuta, hai un problema poliziale, non ti dà i rapporti, sono da due anni ho la polizia a Dubai, la polizia a Texas, la polizia in Brasile, attendendo il primo documento dall'Irlanda, non lo sapevo che era così, per esempio, che questa è la questione che dico, guarda è arrivato a un livello che anche le aziende si sono nascondite in paesi come l'Irlanda dove la polizia non è efficiente, dove la polizia è forse, diciamo, corrotta, per così, ah, lì vanno queste aziende, tutte queste multinazionali, sì, e abbiamo il caso qua delle nostre amiche che è quella, l'Apple, che sono in Irlanda a fare delle cose sbagliate con l'Unione Europea, si capisce, quella è la globalizzazione, quello è il nuovo ordine mondiale oggi, 2020, costo, costo, costo e prezzo a tutto costo, anche imparato per un ciberspazio senza regole, un ciberspazio selvaggio, che non c'è civiltà nessuna, tutto quello che è l'Internet. Ok, va bene, un piacere, con Agustin Caceres di nuovo, piacere, più domande, prego spedire, seguiamo avanti, va bene, un saluto, grazie, Paolo Marcella, lui abita a Liguria, Liguria, come il mio nonno, la famiglia mia mamma, grazie mille delle domande, a presto, ciao ciao, forza Italia, forza forza Italia!